Ciao! Cosa succede a Catatica? È uno splendido paese, perché è in mezzo alla natura. Le colline sono colline emiliane e sono molto dolci e si vede vista a castello. Però quello che succede è che ognuno qua è un po' come se fosse tutto suo, è come se esistesse soltanto una persona e basta. Siamo in più famiglie e c'è proprio questa cosa qua. Allora, adesso sono venuta a sapere che c'era un cane che girava libero nel paese così ed è sempre stato libero. Ognuno se ne prendeva cura dandogli del cibo perché non si faceva afficcinare da nessuno. E niente, adesso addirittura hanno scritto sulla gazzetta di Parma che insomma c'è questo cane, bisogna prendersene cura e tutto. Portarla al canile, a mio parere, è la cosa più sbagliata perché un cane così, essendo sempre stato libero così, sarebbe una tortura per lui. E quindi penso che per lui sia corretto comunque rimanere come sempre stato. Nel caso avesse bisogno, lui è un cane che è sempre vissuto così, quindi sarà lui che appena avrà bisogno di qualcosa, mangerà e andrà, insomma, saprà dove poter trovare da mangiare, dove mettersi al riparo. Ecco, io adesso penso sia giù a Torre Chiara perché ogni tanto lo fa quando è innamorato di qualche cucciola, va nei posti, è capitato anche qua più avanti, poi giù, insomma lo fa spesso perché si vede che è innamorato di una cuccioletta che c'è in quella zona. E quindi, niente, è successa la stessa cosa così, tipo, i miei genitori hanno acquistato una casa con un terreno e niente, c'è chi arriva, taglia il prato senza neanche chiederlo, c'è chi realizza una pista ciclabile senza neanche chiederlo e tu dici, boh, cioè non è una questione di mio o tuo, ma di rispetto proprio dalle persone. Ad esempio, avevo piantato dei fiori, dei tulipani e sono stati tranciati. In questo prato quello che facciamo è prenderci cura della natura, quindi piantiamo fiori, piante e quindi ogni tanto quando questa persona passa, spacca qualcosa. E poi, se glielo fai notare, mette tutto in allarme, no, non è vero, poi soprattutto se è una donna e ti dice che sei una strega, sei cattiva, ti sei inventata tutto, crea tutte delle cose a tal punto proprio da, cioè, che è davvero brutto. E quindi arrivi che subito ti arrabbiavi perché dici, beh, ma scusa, cioè, basta, vieni qua, ho piantato della roba, ma chi te l'ha chiesto? No? E poi dopo addirittura ci sono passata sopra perché ho visto proprio che è la sua maniera proprio di operare tutte le volte, così è capitato anche a casa. Durante i lavori hanno perforato, perché c'è soltanto una parete che delimita le due case, hanno praticamente trapanato, glielo ho anche detto sia con i ragazzi che stavano facendo i lavori, avevo addirittura scritto anche una recensione a questa impiantistica, perché comunque mi è sembrato strano, parli, glielo dici e fanno finta di niente. E addirittura, cioè, mi ero arrabbiata ma tantissimo, fanno finta di niente. Cioè, ti prendono anche in giro, ho chiamato più volte, l'ho detto addirittura all'architetto dei lavori, cioè, hanno fatto finta di niente e addirittura mi hanno detto che era colpa del terremoto quando non c'è stato. Da lì mi sono messa a filmare qualsiasi cosa, ho la documentazione, quindi comunque in ogni modo, loro comunque, anche se negheranno tutto, scusatemi ma ormai, cioè, è una presa davvero in giro, è davvero poco, poco gradito, è stata la stessa cosa, quando volevano creare un passaggio per loro, per entrare nella loro cosa, cosa che ne hanno già un altro, non per togliere, ma perché è l'unico passaggio che porta ad una chiesa, quindi andare a rovinare un qualcosa, che è l'unica cosa che permette per andare là, cioè, è stata la stessa identica cosa. È perché, non so, qua c'è molto il cognome, perché sei figlio di allora tutti ti proteggono, o queste cose qua sono davvero bruttissime, perché così non si ha il rispetto della gente, proprio del vivere con le altre gente, e poi di voler sempre aver ragione loro, creano addirittura poi dopo dei giri davvero brutto, per cui ti fanno sentire te cattiva, strega, quella che si è inventato tutto, cosa che ne hanno parlato con tutti i vicini, quando è alla luce, cioè praticamente è una cosa che si vede, però dato che sono loro, tutto poverini, e quindi, cioè, si è stato rovinato un bene pubblico, in cui la destinazione è pubblica, di un bene ecclesiastico, la cui funzione è pubblica, e ricercando la storia, praticamente mi sono accorta, che il De Garda Udoni l'ha donato per i fedeli, per tutti, attraverso il suo sacrificio d'amore ha reso questo possibile per tutti, e c'è qualcuno che lo rovina. E non c'è, mi spiace, però non c'è molta tutela di questi luoghi, molta tutela e salvaguardia, a meno che c'è la salvaguardia di, perché quello ha il cognome di. Ecco, questa davvero, secondo me, ormai non è più una cosa che regge a sostegno proprio delle persone, della vita, dell'umanità, e poi dei luoghi in cui abitiamo. Quindi, secondo me, dare la colpa esternamente di ciò che succede, senza rendersi conto di ciò che noi facciamo, penso che sia la gravità, ecco, di questo momento, ecco. Quindi è la prima cosa, essere consapevoli delle cose che noi mettiamo in atto, perché siamo noi i primi a mettere in atto quell'azione, e fare in modo comunque di essere in un cammino di evoluzione, non di distruzione. E queste sono le novità, ecco, della giornata.